è rappresentato nel piano fisico Quale concetto esprime la frase serie di fotogrammi di cui parla il cerchio Firenze 77? Commento Esprime il concetto per cui il corpo fisico di un uomo, ad esempio, è rappresentato nel piano fisico. La serie di fotogrammi è iniziata con la nascita dell'uomo nel piano fisico e termina con gli ultimi fotogrammi fisici in cui l'uomo è rappresentato prima ammalato e poi morente. Dopo la morte iniziano i fotogrammi astrali in cui la consapevolezza del trapassato si trova nel suo corpo astrale e quindi nel piano astrale. E via e via. Tutto questo nell'eterno presente.